Questo è uno degli appuntamenti del gruppo di cospirazione Punto Accroce, il circolo di cuscito e riciclo creativo del centro giovani La Stazione. Ogni lunedì alle 19 mettiamo alla prova le nostre abilità sartoriali, facendoci talvolta aiutare da chi ne sa più di noi. Ferri, uncinetti, aghi, fili e stoffe per inventare e reinventare la moda in maniera conviviale e sostenibile. E questo è la Gardo Vintage, il concept store di modo usata della stazione. Nato dalla collaborazione con l'associazione Manitese Onlus, ogni lunedì alle 17 proponiamo abiti usati ma sempre nuovi. Il prezzo, ultra popolare e interamente tracciabile, fa coprire i progetti di cooperazione di Manitese e le attività del circolo di cuscito. La fedeltà ai principi della sostenibilità e della trasparenza sono come sempre garantiti, ma accompagnati al gusto per l'estetica e la moda. Grazie a tutti.